Ora vi racconterei magari tutto il tema della pastorizzazione, dei supporti, un po' di numeri fuori che riscriviamo un po' tutti di più e siamo un pochino messi logisticamente in modo migliore. Bisogna andare dietro di lei, con la porta, al suo stabilimento, quindi tre turni e sabato e domenico come vedete è più tenuto per manutenzione e lavori di questo tipo quindi di controllo, ma si produce su cinque giorni. Poi la produzione non è costante, dipende poi chiaramente sulla base della domanda offerta. Adesso comunque questi numeri ve li dico magari fuori. Ok, esiste un po' d'aria, l'unica cosa è che la porta si è potente per favore. Bravo, ma c'è, dobbiamo uscire, non possiamo stare qui. Adesso c'è un po' di paio. Adesso c'ho un po' di paio. Adesso c'ho un po' di paio. Se il paio è rapido è perfetto. Ho pure messo quel corridoio. Vieni, vieni, vieni. Salo. Allora, allora chi fa vece? Per esempio, quando si fa ancora fare i brand, poi poi sono altri carb, conoscenze, Reddick, Carver, Tumborga principali, ma poi gli altri due principali che sono i commerci, sono Giubi e la Greenberg, che sono stati acquisiti relativamente da Pogba, fino a 2008-2009.